È inutile l'esitazione imposta Non è un killer d'acceso così È più di un anno Micchia Allora Ok Dicevo con chi è quella Non riesco a riconoscere dall'immagine Mi sembra che è un F-Tang Perché Sto suonando il Belgio Banjo Banjo Oh cazzo che te lo lascio finire Banjo Kazui Cerco di prendermi le stack di gioco Col tuo cibo almeno Una cosa che ecco Una cosa che dovrebbero modificare È che se tu sei a questa distanza E stai inseguendo uno Perché ti sta correndo via Dovrebbe partirti il ceso a questa distanza Non so ne si Vabbè grazie Non mi faccio sprecare la stack E adesso Si camper Sono abbastanza Non so se stanno curando Aspetta però Ok Ok Eh sicurino pure adesso Assolutamente puntiamo al second stage Nice Se non al second stage Puntiamo ad atterrarne un altro almeno Qua mi prendo l'hit Mi prendo il chase Così mi prendo la stack di gioco Col tuo cibo Perché non ho il basement qua Ma Allora Immagino si vogliono curare Facciamo stare il save Infatti Vediamo dove vanno a curarsi Continuano dritti Vanno sopra qua Nice DS non può averlo Perché si è curato da solo Sto ammalato Come le merdas Che è successo Che c'hai Sicuramente si stanno Resettando sotto gancio Immagino Ok Quello si è lasciato andare Perché anche era l'ossessione Che si è lasciato andare Cosa fanno tutti qua Ah si vogliono curare qui Paraculite acute Che cazzo è la paraculite Fizzalo grazie all'abbonamento regalato Gentilissimo È inutile che vado su Aspetto che si droppino Dobbiamo stare qui su un'ora Ah è per dire Ok Gameplay interattivo Allora Fatemi prendere una bella cosa Prendo il mio bel Cellulare Lo metto sul mouse Passo destro Guarda Vai easy Almeno non devo Tenere premuto io It's time to play Per un'ora così Ciao tuning Buonasera Oh Ci siamo tolti almeno da questo stallo Totalmente inutile Come va Tutti Mi sa che hanno tipo Il perk è quello per curarsi Per velocizzarsi Quando si cura No Dai che parli Dai che parli Perché mi stanno cambiando in faccia Lo stanno credo trollando Perché tanto comunque in tre Non possono più recuperare ormai In sta mappa Specchietto È intanto in un locker vero? Ah no è qua sopra Cosa fai? Perché ti sei drogata? Oh minchia con quella skin C'ha una chiappa Che è veramente Sta fanguina Oh comunque è incredibile come sono Tutti quanti in minigonna Sì vabbè ma se erano arresi da un po' mi sa Onestamente non potevano già recuperare Faccia vedere dottore che non ho notato Eh ma era nella posizione quando è caduta Capito? Si serve erano palesemente fatti Un pochino dai Eh ma c'ha La gonna me sta male Non si vede Ciao buonanotte Bronte Grazie a essere passato Ah Esix Eccolo Ciao Esix Com'è che succede? Abbiamo implementato il comando migliore per te Stavo vedendo Breaking Bad E' vero che potevo toglierlo da soppressione L'hanno buffato il mio perchino Machine learning Beh palesemente mi ha visto Lui è l'ossessione Ok Perfetto Perfetto Ok siamo già così al massimo di stalk Adesso ci prendiamo l'ultimo Stack di gioca col tuo cibo Perfetto In realtà adesso se l'incontro gli posso dare un hit dm1 normale tra l'altro 3 infinite Si Parma tra build Che culo L'ha gridata fino adesso E proprio quando Speravo che la gridasse ancora Facciamo che attiviamo pressione Vedo per lo stealth che è un po' sprecato Perché il genere è allo 0% Dove cazzo sta questa? Ok Oh no Eccolo 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 Che cosa? Super baciosa La cir La calcio Gambino No Quello del blight Allora Mi va bene Se mi cambi quella del blight Ti prego E' inutile Quel petto del merda L'odio Vabbè Con chi però? E ma con che killer? Oh Se non mi dici con che killer Se non mi dici con che killer Se riesco a scegliere a perare Facciamo uno di uno No No Il killer lo faccio a scegliere a cruizan Oh hanno ripreso il gen un bel piramide gen kick non ha molto senso come sono vitto vabbè neanche se ne rende conto sto pagliaccio jump out right in the face no è che ogni giorno fa il 100% di clonaggio quindi ogni giorno lo rimettono è più diversa la situation c'è un'esplosione qua ciao ferro cx buonasera mamma mia per drop city quanto cazzo è lungo arriva batman che spammai bozzutti che sei morta non sono messo benissimo di gen che ne mancano solo due sono abbastanza lontanucci l'uno dall'altro sono Myers però magari drop mi una patata già che ci sei no ma poi stavo pensando che una giant kick in build al posto di colori di merda del drag del coso perché non mettermi impossibile da nascondersi così qua merda di dragon's grip ok due stack di gioca uh peccato adesso snake se ti do un bacino mi fai VIP no se mi do un bacino ti banno quindi non ti conviene quello di piramide mi da che non mi sento molto a roll radius mi dai un bacino una buonanotte solo se il bacino della buonanotte significa che la mia testa è atomica per farti addormentare mi è mai successo di stare nel letto che volete dormire a tutti i costi perché siete stanchi ma non riuscite a dormire e pensate perché non mi do una botta in testa così che mi addormento che è mai successo mai pensato mai pensato di prima con me non funziona la camomilla mi fa poco effetto eccessivo e io non penso seriamente tipo oh adesso ti do una bella testata al muro così da svenire fortissimo e dormire oh adesso siamo impercettibile e subito dopo corro a dormire per evitare nesso 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 ci sa un buon idea svegli avrai un po' di mal di testa sì vabbè un oxat ma visto che le girls se ne sono andate parliamo di cose da maschi allora tu questo non lo puoi sapere che magari stanno lurcando partiamo da questo presupposto i miei neuroni non cozzano ed esce l'italiano strogosto sapete che vi dico mi avete convinto ci provo stasera no allora io mi dissocio da qualsiasi cosa a cui siete stati convinti da fare va bene partiamo da questo presupposto ciao Valar buonasera sono tutti da dunque ormai siamo alla fine sai quello è il modo migliore per ottenere da sonno leggere in realtà giocare a Tarkov no Tarkov è proprio il contrario contare amo di pecorelli bug di DPD anche fare giochi di mano ma quelli di Federica intendi Don dai basta raga too much too much kinda too much vabbè ma che tu coglioni guardo ho sentito dire di provare a darsi le teste del consumore così è più semplice ho fatta la scuicchia tutto bello Grazie.